Gentili telespettatori buona giornata. Sarebbe in arrivo immediatamente una stretta sul reddito di cittadinanza. Non si può più aspettare, non ci sono i soldi, l'inflazione è aumentata al 12% e quindi le pensioni non saranno più indicizzate al 9% di aumento ma al 12% e ci vogliono molti miliardi in più di quelli preventivati e da dove si prendono è da una parte anche dal reddito di cittadinanza perché nel nuovo decreto da 32 miliardi ci sono in programma ben 21 di tagli di bollette per imprese e aziende. Su alcuni prodotti alimentari viene tolta l'IVA e Meloni dice imperativo tenere i conti in ordine e Giorgetti dice priorità a redditi bassi e imprese. E così una manovra da 32 miliardi, le altre priorità portare il cuneo fiscale al 3%, sostenere maggiormente famiglia e natalità circa un miliardo, aumentare le soglie attuali del credito di imposta dal 30 al 35%. E così nella finanziaria per il prossimo anno che lunedì avrà il suo definitivo consiglio dei ministri ci sarà l'innalzamento della tassa del 15% per le partite IVA da 65 mila a 85 mila euro. Mentre si studia l'azzeramento dell'IVA sui beni di primo consumo è pasta, latte, pane per un anno. Vuoi dire perché per un anno? Perché non hanno i soldi per farla di più. Un anno è già più che sufficiente e poi bisogna ritornare a fare entrare soldi in cassa. Riduzione al 5% sui prodotti per l'infanzia, igiene intima, assorbenti eccetera eccetera, al vaglio l'introduzione di una tassa sulla consegna a domicilio. Quindi esclusi gli alimentari la chiamano la tassa su Amazon, ma Amazon, eBay, qualunque cosa con consegna a domicilio, anche un grande magazzino fa la consegna a domicilio di un televisore, di qualsiasi cosa. E viene confermata la stretta sul reddito di cittadinanza e sui super bonus edilizi. La stretta sul reddito dovrebbe portare riduzioni progressive del sussidio e una maggiore severità per gli occupabili, oltre a servire per finanziare il taglio del cuneo fiscale. La stretta sul reddito comporterebbe che entro sei mesi tutti quelli che hanno la possibilità di lavorare, cioè sono tra i 18 e i 59 anni e hanno tutte le caratteristiche per poter lavorare e nessun impedimento, entro sei mesi verrà tolto a tutti il reddito. Cosa vuol dire? Che non verrà rinnovato a nessuno tra i 18 e i 59 anni. Quando scade non potrà più essere rinnovato. Quindi c'è a chi scaderà a gennaio, chi magari a febbraio, chissà ad altri quando. Scade ed è finito. Quindi chi ha il reddito di cittadinanza oggi e sa che è in età lavorativa, tenga presente che alla scadenza di quel reddito è probabilmente finita. Se faranno dei corsi, ma non credo proprio, non credo proprio, avranno dei rimborsi, ma poi chi li fa questi corsi a milioni di persone? Dai! Corsi di aggiornamento per un milione di persone, ma dove trovi i professori? Ma chi li paga? I comuni? Il governo? Quanti professori deve assumere? Se fai una classe di 10 persone, su un milione devi assumere 100.000 insegnanti. Se invece vuoi fare classi da 20 devi assumere 50.000 insegnanti. 50.000 insegnanti a 2.000 euro l'ordi al mese è quanto viene fuori. E se voi fate con la calcolatrice 50.000 insegnanti per 2.000 euro l'ordi al mese vengono fuori 100 milioni di euro al mese. Se questo va avanti per un anno sono un miliardo, poi c'è la tredicesima, un miliardo virgola tre solo per fare i corsi a quelli che hanno l'età per lavorare, quindi da una parte gli togli il reddito, ma poi devi pagare i professori e devi pagare un bonus per questi che hanno il corso, quindi vai a pagare addirittura a spendere di più di quando pagavi il reddito a queste persone. Tra insegnanti da pagare il rimborso spese per quelli che avevano il reddito e possono lavorare il governo andrebbe a spendere di più. Quindi è per quello che vi dico non c'è nessuna possibilità che si possa fare dei corsi rimborsabili, con un rimborso spese. Vedrete che quando scadrà il reddito non potrà più essere riconfermato, se in età lavorativa. Confermata così la stretta sul reddito di cittadinanza. E poi la Meloni dice che bisogna avere prudenza, il momento è delicato, bisogna tenere i conti pubblici in ordine, ma non per questo rinunceremo alle nostre battaglie, dice il Premier. E poi si va verso quota 103, la legge Fornero non viene cancellata, viene solo sospesa per un altro anno. Quota 103, 41 anni di contribuzione, soglia minima 62 anni, solo 50.000 in Italia hanno le caratteristiche di 41 anni di contribuzione e di avere 62 anni. E quindi è una mini riforma delle pensioni, parliamoci chiaro. Il titolare del MEF, Giorgetti, non si è sbilanciato sulle singole misure, ma ha assicurato di essere determinatissimo a tenere la barra dritta. Cioè i conti in ordine, non si può andare fuori controllo. Sostenere in questa fase le fasce più deboli e le imprese che devono fare i conti con la crisi energetica. E poi una minore indicizzazione delle pensioni d'oro, aumento del limite ISEE da 12 a 15.000 euro per i bonus energia, flat tax incrementale per gli autonomi, riduzione graduale degli incentivi sulla benzina, proroga delle agevolazioni per gli under 36 che vogliono acquistare casa. Cioè si è ipotizzato di procedere anche con l'aumento dei pedaggi autostradali per raccimolare un po' di soldi. Forza Italia chiede la detassazione per i nuovi assunti, che hanno meno di 34 anni per 2-3 anni, però Berlusconi insiste sull'aumento delle pensioni minime a 1.000 euro, vabbè. Dove li prende i soldi Berlusconi per alzare le pensioni minime? Da nessuna parte. Quindi perché dice queste cose? Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.